Avvocato, qual è il rapporto che c'è oggi tra la Sicilia e la Lituania? Ma i rapporti fra la Sicilia e la Lituania sono intensi, ci sono dei rapporti tanto di amicizia storica, Palermo e Vilnius hanno un accordo di gemellaggio, anche il Palazzo Reale, il Palazzo del Gran Ducale di Vilnius hanno un accordo di gemellaggio e questo ha dato luogo a tante iniziative, sia di carattere culturale, tante mostre sono state ospitate a Vilnius della Sicilia e tante mostre di artisti e di prodotti lituani sono state ospitate a Palermo, in genere in Sicilia. E adesso con questa missione oggi si cercherà di incrementare ulteriormente i rapporti economici. Già ci sono degli scambi, però entrambe le realtà, le due economie, hanno qualcosa da offrire l'una all'altra, per cui la presenza dell'Ambasciatore e di una delegazione del Ministero dell'Economia Lituano dimostra l'attenzione e anche la presenza di tantissime imprese lituane che vedono possibili scambi con la Sicilia in una ottica positiva, una possibile opportunità. Grazie.